green pass dal 6 dicembre anche per gli studenti in autobus prima nevicata nell'entroterra grandine nella costa attrazioni e mercatini partiti gli eventi natalizi in provincia di pesaro aiuti a disabili e fragili ecco il nuovo magazzino t 41 b buona serata buona serata a voi telespettatrice telespettatori di rossini tv parte una nuova settimana con l'informazione serale di rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione di lunedì 29 novembre apriamo facendo il punto sulla pandemia e soprattutto sui relativi provvedimenti di contenimento che si stanno sviluppando in questa fine di 2021 uno di questi che sta facendo discutere è il green pass per gli studenti anche all'interno degli autobus scolastici a partire dal prossimo 6 dicembre il servizio è di edoardo razzi non solo il super green pass dal 6 dicembre ci sarà un grosso cambiamento anche per gli studenti dai 12 anni in su la novità infatti prevede che gli scolari non vaccinati per poter salire sugli autobus per arrivare a scuola dovranno essere muniti di green pass una normativa che entrerà ufficialmente in vigore il 6 dicembre e che sarà valida fino al 15 gennaio del prossimo anno comprendendo dunque anche il periodo natalizio questo vuol dire che ogni ragazzo per poter raggiungere il proprio plesso scolastico con un mezzo pubblico dovrà disporre di un classico tampone rapido che certifichi la negatività al covid 19 un test antigenico come noto da diverso tempo ha una durata di 48 ore e stando a quanto previsto dall'ordinamento ciascun alunno dovrà farlo ogni lunedì mercoledì e venerdì tre volte a settimana può rappresentare un problema soprattutto per i genitori anche della provincia di pesero urbino che facendo già due conti in tasca non hanno esitato a sollevare numerose polemiche entrando nel dettaglio nelle farmacie del territorio il prezzo medio per ogni tampone si aggira sugli 8 euro per i minori di 18 anni e sui 15 euro per i maggiorenni considerando che un massimo di tre tamponi ogni settimana può provocare una spesa da 24 euro in su l'introduzione di questa normativa ha scatenato inevitabilmente tante divergenze ma il motivo per cui è stata approvata è molto semplice il numero dei contagi sta risalendo e si sta concentrando sulla fascia giovanile salgono a 246 i posti letto in terapia intensiva nelle marche grazie agli otto nuovi appena attivati all'ospedale torretti di ancona realizzati e finanziati da un intervento statale un'operazione voluta e caldeggiata dalla regione marche per rafforzare la tenuta sulla pressione ospedaliera ad oggi dunque i posti di terapia intensiva sono 41 a marche nord 28 torrette 2 al salesi 4 a fermo e 5 a san benedetto altri 4 verranno attivati a torrette altri 8 a fermo entro gennaio tutto questo mentre i ricoveri in regione continuano a salire 5 in più rispetto a ieri con 107 pazienti in totale in degenza di cui 24 in terapia intensiva ovvero appena sotto il 10 per cento delle attivazioni dei nuovi posti letto restano alti contagi oggi 181 nel lunedì post weekend che vede sistematicamente decrescere il numero di tamponi praticamente la metà dei contagi 88 sono in provincia di pesaro e urbino oggi si contano altri tre decessi una donna di 89 anni di ancona un uomo di 72 anni di tolentino e un uomo di 85 anni di acquaviva picena un referendum sul nuovo ospedale di muraglia e quanto chiede di indire il partito comunista italiano di pesaro all'amministrazione comunale il pc ha infatti sempre espresso la sua netta contrarietà alla costruzione di una struttura ospedaliera in quel sito ritenendo che tutta la cittadinanza debba essere coinvolta in questa decisione dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie a capire in maniera completa le problematiche e contagi e green pass sono elementi con cui deve fare necessariamente i conti l'organizzazione degli eventi natalizi che con tutti gli accorgimenti e le prudenze del caso sono partiti proprio nelle weekend appena trascorso e allora andiamo a vedere alcune belle immagini che rossine tv ha girato in questi giorni e in queste serate a pesaro a candelara a mombaroccio e a valle foglia sotto il chiarore di 96.000 lucine una per ogni abitante di pesaro si è acceso l'albero di piazza del popolo e con esso i 40 giorni di eventi natalizi pesaro nel cuore e se la pioggia domenica ci ha messo lo zampino sabato invece la città si è goduta un centro storico vestito a festa e bardato di mascherine quelle obbligatoriamente previste nelle principali vie dei mercatini natalizi come da ordinanza comunale che imporrà fino al 9 gennaio il vincolo al dispositivo di protezione dalle 10 alle 22 obbligo rispettato tante mascherine ma nessuna multa e divertimento in sicurezza dalla rinnovata pista di ghiaccio della piazza alla novità della isla di via curiel dalle animazioni di dna e coccole sonore al trenino pesaro express fino alla novità del villaggio di natale in piazzale matteotti il tutto col fascino di sempre delle casette rosse e dei loro mercatini diffusi per le vie del centro da pesaro risalendo le colline la magia del natale è tornata ad avvolgere anche candele a candelara riproposta per la diciottesima edizione dopo un anno di assenza in formula ridimensionata capace di contingentare le quasi 5.000 persone arrivate in due giorni nel borgo illuminato come sempre dalla luce fioca delle candele da candelara a monbaroccio c'è stato lo start al natale che non ti aspetti partito sotto il fascino della magica neve artificiale caduta sul borgo e sull'atmosfera onirica che ha ammantato mercatini e attrazioni per i più piccoli questo mercatino ci mancava tantissimo un mercatino che ci rende gioia e ci dà una speranza una speranza in più per quello che sono le difficoltà che stiamo affrontando ogni giorno in maniera abbastanza così delicata e benché ben conosciamo un motivo in più perché mi inorgoglisce il fatto di vedere tutti questi volontari sul territorio tutte queste casacche gialle che si danno un grande affare tutti coloro che sono dietro i fornelli che cercano di ospitarvi al meglio un motivo in più perché tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo per il territorio e per cominciare a rivedere un percorso un pochettino più sereno a fronte appunto del periodo pandemico che stiamo affrontando qui oggi da questo bellissimo castello da questa bellissima posizione anche rivolta sia verso l'appennino che verso il mare inauguriamo il natale che non t'aspetti e natale a monbaroccio un grandissimo evento di rilievo e soprattutto di uno spessore veramente importante che destagionalizza il periodo vacanziero quindi da questo periodo avremo gli alberghi tutti pieni su tutta la nostra provincia e non solo domenica pomeriggio è anche partito il natale di valle foglia con l'accensione dell'albero in piazza della repubblica a montecchio però è che è un segno anche di fiducia di speranza di futuro dietro le nostre spalle c'è la prologo che fa le caldarozzo insomma il vin brulee insomma come messaggio verso le feste di natale nonostante i limiti nonostante tutto e va un ringraziamento anche l'ambima che è l'associazione nazionale delle bande italiane perché ha messo insieme alla banda di valle foglia con quella di monte felcino è un segnale anche questo di rinascita di ripresa e di fiducia nel futuro nonostante un momento molto difficile e nel servizio che appena andato in onda avete visto l'effetto della neve artificiale nelle coreografie del natale a montbaroccio la neve però quella vera è arrivata per davvero ed è arrivata questo weekend nelle aree montane della provincia la prima imbiancata dell'anno come vi mostrano queste immagini dal rifugio delle cotaline sul monte catria e dal rifugio corsini sul monte nerone neve anche a carpegna e nella vicina san marino non era neve ma l'effetto visivo è stato molto simile quella che ha procurato la grandinata caduta attorno alle 15 nella costa che ha imbiancato pesero al culmine di una mattinata dalle temperature molto rigide e da un pomeriggio che ha avuto altre ore di maltempo sabato a villa fastigi è stato inaugurato il nuovo magazzino di ausili protesici gestito dalla cooperativa t 41b ausili come carrozzine letti montascale che sono consegnati a domicilio alle categorie fragili e disabili della città un progetto dall'alto valore di aiuto alla disabilità che è stato applaudito nell'occasione dal sindaco ricci ma anche da mezza giunta regionale presente al taglio del nastro è stata una giornata particolare quella di sabato 27 novembre segnata dall'inaugurazione del nuovo magazzino di ausili protesici gestito dalla cooperativa t 41b sono usili che l'azienda sanitaria dà a casa ai anziani o ai malati e quindi noi facciamo la consegna il ritiro la manutenzione la sanificazione la riparazione se necessario è appunto un appalto che abbiamo da parecchi anni si è rinnovato recentemente e come cooperativa sociale che gestiamo questo servizio la nostra peculiarità è di inserire in questa attività persone appartenenti alle categorie svantaggiate sul mercato del lavoro quest'anno diciamo abbiamo trasferito tutto il magazzino in un nuovo capannone anche per ragioni legate al covid quindi di distanziamento ma anche perché è un servizio che anno dopo anno cresce di più dovuto all'invecchiamento della popolazione e anche un po' alla filosofia di cercare di tenere gli anziani più possibile al proprio domicilio e non in residenti finché è possibile insomma e non in residenze sanitarie entusiasti di questi servizi forniti dalla cooperativa anche numerose autorità che hanno presenziato l'evento come l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci un pezzo di storia della nostra città al tempo stesso un pezzo di storia che era esistito a momenti molto molto complicati è continuata ad investire nonostante tutto ed è evidente che è aumentata in questi anni sia la qualità del servizio ma senza perdere lo spirito che contraddistingue questa esperienza qui hanno trovato un elemento di riscatto un percorso di speranza un percorso di rinascita decine e decine di ragazzi e di ragazzi tantissimi ragazzi che non avrebbero trovato lavoro da nessuna parte e che grazie al lavoro si sono sentite integrate in una comunità che rischiava di estrometterli non solo hanno migliorato la loro condizione fisica psichica ma hanno in qualche modo attraverso il lavoro attraverso il fare portato avanti una coesione sociale vera nella nostra città questo è un modello interessante da poter esportare anche in tutta la regione perché dimostra come la professionalità di tanti artigiani come possiamo chiamarli sono in grado di garantire a tante persone che hanno bisogno quello strumento per essere con questa parola complicata normodotati è bello questo modello perché è davvero importante perché naturalmente mette insieme tante cose quante sono le imprese che preferiscono dare il lavoro appunto alla cooperativa per non avere problemi i cosiddetti problemi la scorsa settimana vi abbiamo parlato delle tante iniziative per la giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne iniziative andate ben oltre la data del 25 novembre anche questo sabato infatti sono state inaugurate due panchine rosse a monito contro la violenza di genere in altre tanti parchi delle quartiere pesarese di Pantano grazie a Rossini TV per questa opportunità sono Ezio Bracco presidente Hauser volontariato Pantano oggi nella giornata del 27 di novembre abbiamo inaugurato come dico sempre non avrei voluto inaugurare una panchina rossa per ricordare la violenza sulle donne avrei preferito inaugurare una panchina della felicità ma ahimè siamo nel 2021 e ancora dobbiamo parlare anzi direi urlare che ci sono uomini che abusano o che uccidono le loro mogli, le loro fidanzate e questo è veramente una cosa brutta bisogna cercare di creare una rete di dialogo per sostenere queste donne che inizialmente non parlano hanno paura perché sono state annientate mentalmente perché non hanno più voglia di ragionare e io dico sempre che la donna ha una marcia in più bisogna ritornare a dargli questa marcia per uscire da questa grande piaga ringrazio Hauser per questa occasione che mi ha dato in questa giornata di evento dedicato alle donne per la programmazione del mio film al cinema Solaris dentro con il centro antiviolenza con il recupero uomini maltrattanti e poi per questa bella giornata di inaugurazione di due panchine a Pantano nei piccoli parchetti due panchine rosse dedicate appunto alla giornata alla violenza alle donne e spero veramente che un giorno non ci sia più bisogno di fare inaugurazioni di questo tipo ricorrenze di questo tipo ma che possiamo stringerci in un abbraccio fraterno a tutti quanti è diventato operativo il progetto Agata Accoglienza e Legalità nella provincia di Pesero Urbino organizzato dalla Prefettura e finanziato dal Ministero dell'Interno con la finalità di rafforzare l'attività dello sportello unico per l'immigrazione i servizi nel settore dell'accoglienza e attivare un sistema territoriale pubblico privato per l'approfondimento del fenomeno dello sfruttamento del lavoro irregolare e del caporalato con interventi formativi e informativi ed è stata assolutamente buona la risposta della cittadinanza marchigiana e l'altrettanta partecipazione di volontari alla 25esima colletta del Banco Alimentare tenutasi sabato in gran parte dei supermercati della regione in linea a quanto la Fondazione Banco Alimentare ha organizzato in tutta Italia nelle marche sono state raccolte 216 tonnellate di alimenti grazie al lavoro di ben 4.000 volontari che si sono divisi in 600 punti vendita aderenti alla colletta e parliamo anche di un prestigioso riconoscimento che ha ricevuto la ditta pesarese Italforni che a Milano ha vinto il primo premio della rassegna Re Panettone una festa dedicata al dolce milanese per eccellenza con il primo premio destinato al miglior lievitato innovativo che è andato al capo pasticcere El Galiberto che ha preparato il panettone vincente attraverso il forno ventilato Windy di Italforni idee per i regali di Natale con i doni di Ant si può sostenere l'assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore sono infatti già attive le prenotazioni per ricevere panettoni, pandoro, stelle di Natale oltre al paniere delle eccellenze marchigiane Ant e invece nel weekend il partito socialista italiano è sceso in piazza anche a Pesaro contro il caro Bollette in piazzale Collenuccio i segretari regionale e provinciale Boris Rapa e Riccardo Pozzi hanno mobilitato una raccolta firme per chiedere l'impegno al governo Draghi per una riduzione degli oneri accessori e degli oneri dell'IVA sulle bollette di luce e gas socialistiche attraverso il senatore Nencini presenteranno una interrogazione parlamentare in tal senso e l'iniziativa sarà sostenuta anche da diversi ordini del giorno presentati in diversi consigli comunali ed ora allo sport è stata una domenica di sosta nel campionato di Serie A di basket si è scese in campo invece nel calcio ci sono stati due pareggi per il Lavi Spesaro e per l'Alma Juventus Juventus Fano vittore molto importante invece per la megabox nel volley e per l'Ital Service nel calcio 5 Nella prima domenica di sosta del campionato di basket di Serie A riflettori puntati sul calcio dove la Vis Pesaro rimedia il secondo pareggio consecutivo è 1-1 a Pontedera col Montevarchi e succede tutto nella ripresa coi toscani avanti con Gambale e il redivivo Tonso a pareggiare un quarto d'ora dalla fine Vis però costretta a mangiarsi le mani per una chance divorata da Saccani proprio all'ultimo secondo del match Io dico sempre che ci sono sempre due partite quella tattica e quella emotiva e se nel primo tempo quella emotiva sicuramente è stata è stata vinta dai nostri avversari dopo la dinamica finale ti porta sicuramente a dire che la Vis Pesaro è uscita dal risultato facendo gol pareggiando e cercando di portare a casa comunque i tre punti e questo quando lo fai fuori casa dimostra comunque coraggio voglia di sacrificarsi e contro una squadra che è giovane che corre e che fa far fatica agli avversari non era scontato In Serie D pari anche per il Fano che dopo due vittorie di fila si ferma sullo 0-0 al Mancini col Pineto Nella pallavolo fondamentale vittoria per la Megabox Vallefoglia che al Palacarnaroli di Urbino contro Perugia va sotto e poi vince 3-7-1 rilanciandosi in classifica Il sabato aveva invece visto sugli schermi di Rossini TV la straripante vittoria dell'Ital Service a Pescara 5-1 per gli uomini di Colini che rafforzano il loro secondo posto in classifica vincendo il match d'alta quota grazie alle reti di Salas Canal Cuzzolino Fortini e Borruto E come detto non ha giocato la VL questo weekend per la pausa delle nazionali ma intanto oggi BPR Banca ha ufficializzato il suo stegno alle attività sportive del territorio attraverso una partnership per la stagione sportiva 2021-2022 proprio con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordo qualche appuntamento con la nostra prima serata del lunedì come ogni lunedì l'appuntamento è con Check Up Obiettivo Salute settima puntata di questo format realizzato in collaborazione con Fisioradi Medical Center in questa puntata interverrà il dottor Filippo Pierangeli che ci parlerà di calcolosi della Colicisti appuntamento alle 21.20 prima replica alle 23.15 e poi tante repliche che vedete in grafica per tutta la settimana a seguire alle 21.30 un altro dei tanti appuntamenti della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne le nostre telecamere si sono accese in particolare a Tavuglia per l'iniziativa quello che le donne non dicono appuntamento dunque questa sera alle 21.30 e finisce qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News da parte mia e di tutta la redazione vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi e di tutta la redazione e di tutta la redazione di tutta la redazione